Un sisma di magnitudo 4.2 è stato registrato a 1.34 dall'ingivio a largo della costa siracusana a una profondità di 33 km. Come emerge dalle testimonianze sui social, la scossa è stata avvertita dalla popolazione anche a Catania. Non si segnalano danni a persone o cose. Un altro evento significativo della storia recente è avvenuto il 30 settembre 1963 nel Mar Ionio di magnitudo 5.0. Il terremoto di oggi, evidenzia l'ingivio, è avvenuto in un'area che storicamente ha sentito gli effetti di forti terremoti avvenuti in area limitrofe. La pericolosità sismica di questa area è considerata media. Terremoti anche più forti di quello avvenuto oggi sono possibili per quanto la probabilità che si verifichino, ovvero la frequenza, non è particolarmente alta. L'epicentro del sisma, avvenuto a 42 km da Siracusa, 38 km da Augusta e 52 km da Catania, si colloca nel bacino ionico ad est-nord-est dell'avan paese Ibleo, area maggiormente sismogenetica della Sicilia sudorientale, spiega l'ingivio terremoti in un report. Nel bacino ionico si trovano strutture connesse alla faglia Ibleo-Maltese, importante elemento strutturale ad est del blocco Ibleo e tutte le strutture secondarie ad essa connesse. Le localizzazioni epicentrali sono piuttosto sparse e non descrivono particolari allineamenti che possano essere associati ad una struttura definita. Questo aspetto si legge pur essendo dovuto in parte alla mancanza di stazioni sismiche in mare, caratterizza la sismicità del bacino ionico a sud della Calabria, ad est da Catania e Siracusa. Dal 1985, nell'area compresa entro 30 km dell'epicentro, sono stati localizzati altri 29 terremoti di magnitudo pari o superiori a 3.0.